Importante vittoria casalinga per la Garibaldina contro il Real Sant'Agata. La squadra di Soveria Mannelli è riuscita a venire a capo della partita proprio nei minuti finali della gara, appunto esattamente al novantatreesimo con un gol di Morrone che riesce così a ribaltare il momentaneo vantaggio che era maturato nel primo tempo a favore della squadra cosentina ospite. Poi nella ripresa al ventesimo esattamente la Garibaldina era riuscito ad impattare il pareggio e quindi come dicevamo trovare questi tre punti importantissimi nella propria classifica che consentono proprio alla squadra di casa di raggiungere i dieci punti a ridosso proprio degli avversari che ne hanno undici e quindi togliersi possibilmente e momentaneamente quantomeno dalla posizione di bassa classifica, quelle posizioni dei play out che come sapete debbano e vogliono significare play out appunto per la retrocessione. Una partita bella e intensa che il fatto stesso che si sia decisa al novantatreesimo sta a far capire quanto tesa fosse e quanto fosse importante alla postimario.